Ancora paura in località Colcinello di Praia Mare. La pioggia di stanotte ha messo in allerta tutte le famiglie della zona. Il timore è quello che possa ripetersi quanto successo la settimana scorsa, quando dopo mesi di siccità il primo acquazzone ha portato a valle il fango e i detriti depositatisi lungo le pareti aride delle montagne. Una colata di fango che non ha trovato intoppi e ostacoli lungo il suo cammino, anche a causa dei danni provocati dall'immano incendio scoppiato nel mese di agosto. Come un paradosso, gli unici impedimenti sono proprio nei punti di scolo delle acque. Dai canali infatti fuoriesce fango a causa degli accumuli di detriti non spesso naturali che vengono abbandonati con incuria e inciviltà. Da ciò l'inevitabile allegamento di strade, terreni e abitazioni. Niente di simile fortunatamente è accaduto stanotte, ma l'allarme non è ancora cessato. Sgomento e paura sono i sentimenti che trapellano dagli occhi degli abitanti di località Colcinello, che ci accompagnano nei loro terreni per mostrarci danni subiti. Ovunque sono sparsi i detriti che la forza delle acque ha portato con sé, buche scavate dal picchiettio incessante delle piogge che come lame acuminate hanno soltato la terra arida. Unanime la richiesta dei residenti. Abbiamo bisogno di qualcosa che ferme le acque in corsa, più muri di protezione e più sensibilità verso questa zona duramente colpita in questo ultimo periodo. E ancora, non sappiamo a chi rivolgerci. Abbiamo paura, ripetono i residenti. Non vogliamo pensare che possa accadere ancora una cosa del genere o addirittura qualcosa di peggio. Grazie. Grazie. Grazie.